Sì, più che un pericolo mi sembra una certezza, abbiamo una serie di partiti, non è una novità di questo governo, ma insomma spicca particolarmente in questa occasione, che sembrava destinata ad unità dopo uno scampato pericolo democratico, nella visione di molti, ebbene la certezza è che questi partiti non sono tanto interessati al bene comune, all'interesse dell'Italia, diciamo la verità, è chiaro dalle loro parole, dai loro comportamenti, che l'interesse preminente è quello dei singoli partiti in chiave elettorale e delle singole personalità nell'ambito dei partiti, e questa è la distorsione alla quale come cittadini dovremmo ribellarci un po', e comunque sì, credo che lei mi dice come sarebbe consigliabile che gestissero i rapporti tra loro. No, più che altro se secondo lei questa cosa può durare in questa forma, e quale comportamento, quale consiglio, diciamo, anche su come fronteggiare gli attacchi di Renzi in particolare, ma in realtà c'è anche Di Maio. Sì, appunto, siamo ancora in fase che tecnicamente dovrebbe essere di luna di miele, quindi se già hanno cominciato, speriamo che venga un ravvedimento in itinere, ma non mi sembra molto probabile. Renzi lo conosciamo, e la percentuale di voti che c'è dietro di lui è relativamente poco rilevante rispetto a quel moltissimo che c'è dentro di lui come dinamismo, protagonismo, vulcanicità delle idee, desiderio di incidere comunque.